Sono gli ultimi ledger e lo starter. Partiti! E' in vantaggio Ricci davanti a il re Tritone Mago di Settubal, Loit Giordano da Clodia Brigge, Vasabi e Oberwirth All'inizio della curva in vantaggio il re Tritone davanti a Rito Abbreviato Giordano da Clodia, Loit, Ricci Mago di Settubal Oberwirth e Brigge, Vasabi Poco prima dell'ingresso in vantaggio il re Tritone davanti a Rito Abbreviato Giordano da Clodia e Loit I cavalli entrano in dirittura con il re Tritone in vantaggio davanti a Giordano da Clodia il rito Abbreviato Mago di Settubal per linee interne Loit a centro pista seguono Oberwirth, Ricci E' in leggero vantaggio il re Tritone attaccato all'esterno da Loit e Oberwirth seguono Mago di Settubal Rito Abbreviato e in vantaggio Oberwirth davanti a Loit il re Tritone Mago di Settubal Giordano da Clodia in vantaggio Oberwirth davanti al re Tritone Mago di Settubal Giordano da Clodia Rito Abbreviato è facile Oberwirth davanti al re Tritone e Mago di Settubal 9 20 20 20 20 20 Grazie. Grazie. Grazie.